Non un semplice esame di maturità. In Cina è il giorno del Gao Gao, l'esame di reclutamento per l'istruzione superiore, il culmine di anni di studio scolastico per quasi 13 milioni di liceali cinesi, finalmente quest'anno senza restrizioni anti-Covid. Genitori ansiosi hanno accompagnato i figli a sostenere la prova, da cui si ottiene un punteggio totale che determina quale università, prestigioso o meno, e quale specializzazione il candidato potrà frequentare. Quindi il suo futuro. Mio figlio è abbastanza rilassato, credo di essere più stressata io di lui, dice sorridendo una madre con un abito tradizionale cinese che si ritiene essere di buon auspicio. Ho aiutato mio figlio a studiare dal primo anno di scuola elementare fino alle superiori, spiega. Dopo l'esame sarò completamente sollevata. Il Gaokao, il cui formato varia leggermente da provincia a provincia della Cina, comprende test di cinese, inglese, matematica, geografia, storia, chimica, fisica e politica. Molti genitori spendono l'equivalente di migliaia di euro per iscrivere i propri figli fin da piccoli a lezioni private, per massimizzare le loro possibilità di successo rispetto agli altri candidati al momento dell'esame. Grazie a tutti.